Uomini, donne, bambini, nessuno grida più, ma sento ancora l'eco delle loro voci. Grazie a tutti. Ehi, Blasco, fatti strada tra le macerie e raggiungi lo State Building. Prima arrivi, meglio è. Fergus, chiudo. Grazie a tutti. 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 Manca a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 E tu, che cazzo è? Cos'hai detto? Sei un nazista? No, 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 no. Non sono un nazista. Non sono un nazista, ok? Beh, se non lo sei, allora o sei un nero o sei un anormale. Non mi sembri un nero, quindi ti fingi un anormale. Ti sembra un anormale, sorella Grace? No. Aspetta, aspetta. Non sarò un anormale, ma... Ecco, l'ho detto! Un cazzo di nazista! Vaffanculo. Figlio di puttana! Te lo ripeto. Io non sono un fottuto nazista. Ehi! Ora Super Special ritorna coi piedi per terra adesso. O ti infilo questa granata direttamente su per il culo e mi metto a ballare mentre le tue budella schizzano a destra e a manca. Che cosa ne pensi? Ragazze, non ho tempo per le stronzate. Abbiamo cercato di metterci in contatto con voi. Vogliamo organizzare una rivoluzione in America. Vogliamo? Il Circolo Chrysler. Spishy accompagna questo figlio di puttana in casa e dagli un pasto caldo. Rimetto la spoletta. Cazzo! Al riparo! Rilassati, amico. È difettosa. La stronza ha un bel senso dell'umorismo. Amico, mi stai schiacciato? Ti piace il chili? È la ricetta del mio vecchio. Niente cucchiaio, però. Grazie. Cos'è questo? Un recinto per polli? Recinto per polli? È la mia gabbia di Faraday, amico. Ti piace? Impedisce a quei maledetti superruder nazisti di trovarci? Mi sono quasi fatto uccidere da William Blaskovic. Cazzo! Ti spiace? Eri qui quando è esplosa. Sì, ero qui. Sono sopravvissuta, quasi incolume, perché ero sottoterra. Quando sono salita, mi sembrava di essere nell'inferno di Dante. Ricordo gente mutilata per le strade. Ricordo le grida spettrali che eccheggiavano tra le macerie dei palazzi. Ricordo una madre e suo figlio. Il ragazzo parcollava disperato in mezzo al caos, con le braccia protese in avanti. Chiamava sua madre. Ma il calore della bomba gli aveva liquefatto la pelle delle braccia, che penzolava, come se avesse una maglietta più grande di due taglie. E ricordo sua madre strisciava verso di lui. Metà del suo corpo se n'era andata. Andata. Era senza gambe. A cosa pensi in quei momenti, quando sai di aver perso tutto ciò che ami? A cosa pensi in momenti come quelli, eh? Merda. Mi rimarrà il segno. Mostri schifosi. Non mostri. Uomini. Mi spiace per la tua perdita, Blaskovic. Per quel che ho conosciuto Caroline, era incredibile. Aveva le palle quadrate. Palle? Ma per quale cazzo di ragione le palle vengono utilizzate sempre come un sinonimo diretto di coraggio? Delle piccole cosette fragili, che se ne stanno lì tranquille, avvolte al calduccio nel loro cavolo di... l'urido involucro di pelle rugosa. Cazzo! È un mistero. Già. La cosa positiva è che servono a creare la vita. Già. Ne ho un paio in arrivo anch'io. Carino il piccoletto. È una femmina. Oh, scusami. Scusami di cosa? Che c'è, Speci? Un cazzo di esercito di maiali che arriva dalle stade. Metta. Ci hanno trovato. Bene. Hai un piano per fuggire, Blaskovic. Ania, ci serve un'estrazione immediata. Ricevuto, William. Invio Asuna e As2 per estrazione immediata. Ok, porta la tua gente sul tetto. Io intanto distrago i nazisti. Fratelli e sorelle, ascoltate. Ho bisogno che andiate tutti sul tetto. Adesso, evacuazione. Portate l'equipaggiamento. Forza, presto gente! Su, veloci. Prendete la roba. Sicuro? Tu preoccupati di salvare la tua gente. Forza, venite a prendermi. Fottuti, bianchi maiali fascisti. Fottuti, bianchi maiali! Perciò. Sì! 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 Evacuazione completata! Salta dentro Blasco! Calma! Cucicchiere, mia piccina! Sei tu la mia piccina! Sei che sei tu! Sei una bambolina! Sei proprio una bambolina! Dobbiamo farlo, Grace! Dobbiamo risvegliare lo spirito combattivo americano! Scatenare una rivoluzione! Merda! Noi abbiamo combattuto ogni fottuto giorno, Blaskovic! I bianchi, invece, hanno mollato il colpo! Vedi, ormai non sanno più cosa significa combattere! No, fanno tutto ciò che il Führer gli dice di fare! Sono stronzate! Vogliono farla pagare i nazisti proprio come me e te! Hanno bisogno che qualcuno gli faccia vedere come! Chi comanda nel sud dalla vittoria dei nazisti? Il fottuto Ku Klux Klan del cazzo! Ho ragione! Esatto! Quindi che cosa pensi di fare? Andare lì e stringergli la mano? Fare la pace e convincerli a unirsi a noi? Ma fammi un po' il favore, Blaskovic! Lascia perdere i volta Gabbana! Pensa alla gente comune! Senti, io sto tirando gli ultimi! Non so quanto tempo mi resta! Non riesco nemmeno a reggermi in piedi da solo! Ho visto di peggio! Forse hai ragione! Forse gli americani si sono abituati a vivere sotto la tirannia! Forse quando tirerò le cuoie i nazisti saranno ancora al potere! Sorella Grace ha sempre ragione! È una lezione che ho imparato! Non lo so! Però so questo! Ed è che se togli la libertà gli americani stai giocando col fuoco! E io voglio gettarci sopra della benzina! La gente ha bisogno di sapere che non dovrà più sopportare! È questo che ho intenzione di fare! Prima di andarmene! Ora sì che mi piace, Blaskovic! Vuoi che i nazisti insipiscino sotto? Vuoi colpirli dove fa più male? Cazzo vuoi scatenare un gran bel casino? Allora hai trovato la donna giusta! Se ti è rimasta ancora un briciolo di voglia di combattere e spaccare il culo... Beh, guarda un po'! Ho in mente un piano che scatenerà un terremoto ovunque! Accidenti! È già ora di tornare a Roswell! Puoi scommetterci! Che ne dici di questo, Speck? Sì! Questa volta te l'ho fatta, mio piccolo Goylem! Maxos? Non saprei, Maxode! Bene bene, è qui che prendete le decisioni importanti! Ci servirà un posto per dormire! Questa stanza è vuota! Super Speck! Ehi, Bianco! Alla mia gente serve una casa! Energia elettrica, accesso alla radio e il bagno! Capito? Per favore! Come? Per favore! Se vuoi qualcosa chiedi per favore! E non osare chiamarmi inglese! Senti, stronzo! Stiamo qui a discutere o ci mettiamo al lavoro! Allora? Non farci caso! Non ho alcun controllo su questo coso! A tuo servizio! Che c'è, capo? Staremo qui! Ah! L'hai detto, sorella! Ok! Ascoltate, fratelli e sorelle! Il... L'inglese permaloso vi farà vedere le vostre postazioni! Dopodiché guardatevi attorno! Trovate una sistemazione e presentatevi all'equipaggio! Fate i bravi! Ma fatevi anche rispettare! Cazzo! Come ha detto la signora! Seguitemi! Avete bombe atomiche qui? Sì, le abbiamo! C'è una scorta di testate nucleari giù nella sezione F! Potrebbero tornarci molto utili! Abbiamo sigillato l'ingresso della sezione F! Si è allagata dopo l'attacco! Laskovic, sai nuotare? Sì! Niente male, baby! E questo... Che cazzo è? Ho... Chiesto! Cosa cazzo è questo? È un cesso funzionante quello che ho di fronte? Sì! È un gabinetto che può smaltire ogni tipo di fluido corporeo, feci, urine, vomito... E così via! C'è qualcosa per pulirsi il culo? Sì, sì! Naturalmente bisogna razionare le scorte, ma c'è anche di che pulirsi il culo! Oh! Oh! Dio! Oh mio Dio! Oh santo Dio onnipotente! Un cesso funzionante con un cazzo di sciacquone! Non pensavo che ne avrei mai rivisto uno! Eh... Ok! Ok! Starò qui dentro giusto un minuto! Buona fortuna! Cos'è? Ehi! Ci serve un'attestata nucleare dalla sezione F! Andresti a prenderla! Grazie! Devi essere furbo, eh! ... ... Vien! ... ... ... ... ... Signore. No, 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 non può essere dannato golem! Hai visto il nuovo percorso d'addestramento che Seth ha realizzato al poligono di tiro? Ci ho fatto un giro, ma ho fatto schifo. Non è la stessa cosa se non ci sono razzistiche. Capitano? Che diametro, siamo una bella ciuola di marinai ora, eh? Buonasera, Capitano Vlascovich. Grace, mi ricevi. Vado a ripescare quella testata nucleare. Ricevuto, aggiornami. Grazie. 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 Grazie.